realizzeremo adesso una tabella che ci permetterà di analizzare le superfici dell'appartamento che stiamo studiando. Dovremo in questa tabella andare a riportare le superfici di ogni singolo ambiente, le superfici finestrate, quindi l'area di tutte le finestre che ci sono, e fare delle verifiche tra queste superfici secondo la normativa vigente. Allora questo lo faremo con un file Excel, apriamo Excel e predisponiamo alcune colonne e poi le andremo a compilare manualmente prendendo i dati dal disegno che abbiamo realizzato. Allora nella prima colonna scriveremo il numero ambiente, nella seconda colonna nome ambiente, ho sbagliato a digitare, nome ambiente, nella terza colonna metteremo la superficie dell'ambiente, nella quarta colonna la superficie finestrata dell'ambiente, nella colonna E indicheremo la superficie minima finestrata, magari superficie la possiamo abbreviare per evitare che sia troppo lungo il nome, nella colonna successiva alla colonna F e scriveremo se questa superficie finestrata sarà verificata oppure no. Allora conviene allargare diciamo le colonne, si possono allargare in tanti modi, io faccio in questo modo larghezza colonne, metto 20 in modo da poter avere una tabella più ampia e poi potete fare come credete meglio. Allora ritornando al nostro disegno, adesso per questo ambiente grande è il soggiorno, lo chiameremo ambiente 1, poi dopo successivamente vedremo come andare a estrapolare le misure da Archicad. Allora lo chiameremo ambiente 1, nome soggiorno, la superficie la andremo a digitare manualmente così come la superficie finestrata. La superficie minima finestrata per la maggior parte degli ambienti, poi vedremo quali, deve essere minima pari ad almeno un ottavo della superficie, per cui lo possiamo far calcolare in automatico ad Excel. Basta che scriviamo uguale il valore che starà qui C2 diviso 8. Quindi nella cella E2 in automatico Excel scriverà un valore che è pari a quello della cella C2, cioè la superficie di tutto l'ambiente, diviso 8. Nell'ultima colonna della verifica, che cosa noi dovremmo andare a verificare? Dovremmo andare a verificare se la superficie finestrata reale del nostro appartamento, dell'ambiente che stiamo analizzando in questo caso del soggiorno, sia minore o maggiore della superficie minima finestrata. È chiaro che se è maggiore sarà verificato, se è minore non sarà verificato. Noi stiamo facendo, poi quando farete il vostro progetto bisognerà sempre verificarlo. Adesso stiamo analizzando un edificio, potrebbe anche succedere che qualche superficie non è finestrata. Allora lo possiamo fare, questa verifica far fare in automatico sempre ad Excel con una formula. Se andiamo su formule, le formule logiche, c'è un'opzione SE. Allora noi qui scriveremo che SE, ok, D2, che è questo, è maggiore di E2. Allora se si verifica questa condizione, lui scriverà verificato. Se non si verifica, cioè se non si verifica questa condizione, scriverà non verificato. Bene, quindi questo è un po' la regola del comando SE, che probabilmente già conoscete. Quindi se D2, la superficie finestrata, è maggiore di E2, quindi della superficie minima finestrata, sarà verificato. Se questo non accade, sarà non verificato. Adesso dobbiamo provare se funziona e mettere alcuni dati. Facciamo un esempio limite, mettiamo 100 metri quadri, ok? Lui automaticamente ha calcolato che la superficie minima finestrata deve essere 12,5 metri. Allora se scriviamo che la superficie nostra reale è 10, vedete sulla verifica compare non verificato. Se invece che 10 scriviamo 20, comparirà verificato. Quindi in questo modo Excel in automatico ci calcolerà questi valori e ci farà le opportune verifiche. Noi, questa è l'impostazione generale della tabella, chiaramente dovremo poi andare a inserire i valori di ogni singolo ambiente e adesso poi vedremo con Archicad come fare in modo che il programma li possa calcolare automaticamente.